la festa del papà di quest'anno sarà un evento davvero straordinario per cristian baruzzo residente ad albiano magra la più grande frazione del comune di aulla in lunigiana in questo giorno speciale cristian donerà un rene a suo figlio leonardo di 20 anni il quale da tempo attendeva con ansia il trapianto un intervento che è stato più volte rimandato in passato l'operazione avrà luogo proprio oggi martedì 19 marzo presso l'ospedale cisanello di pisa come riportato dal quotidiano la nazione leonardo è nato con un'insufficienza renale cronica che lo ha costretto fin dalla giovane età a subire vari interventi chirurgici pur continuando a condurre una vita normale diplomandosi e praticando sport tuttavia due anni fa ha sviluppato un blocco renale che ha reso indispensabile il trapianto da quel momento è iniziato un lungo percorso preparatorio all'intervento al quale hanno partecipato attivamente anche i suoi genitori sottoponendosi a tutti gli accertamenti necessari alla fine emersa una compatibilità perfetta con il padre cristian avrei desiderato tanto di essere compatibile ha dichiarato la madre monia piva titolare di una scuola di ballo ad albiano magra in un'intervista alla nazione dove lavora anche come assistente insieme a leonardo tuttavia è stato proprio il padre ad essere risultato compatibile al 100 per cento non appena ricevuto la notizia non ha esitato un istante e ha accettato di donare una nuova vita a suo figlio